queste due radio sono di Livio di Castelle San Pietro Romano ho scritto un foglio lì su quello che c'è da fare adesso incominciamo con il primo vediamo vediamo prima quello che ha e poi decidiamo se no decidiamo cerchiamo di sistemarlo vediamo che ce la facciamo allora Livio il primo lo sistemato era qualcosa che potevi fare pure tu avendo la corrente non ho fatto altro che spruzzare con lo spray quello per i contatti la parte interna dei commutatori qui a MFM poi mi trovavo io ho fatto una passata anche sui potenziometri quindi adesso non fa più quel rumore ho messo la batteria perché non c'era all'interno per fare la prova e adesso sembra che va bene quindi passiamo all'altro lì è più impegnativo più complicata la questione è complicata qui perché Livio mi ha scritto che la radio è stata presa da un fulmine e quindi poi non non ha più funzionato adesso adesso lo apro e vediamo un po di fare qualcosa se ci riesco sempre perché non è un gioco da ragazzi visto il danno che avrà subito con il fulmine ecco bene adesso lo apro e comincio a fare qualcosa comincio a vederlo allora questa parete qua scotta di fuoco molto probabilmente per la ricezione c'è il problema qui sul finale di bassa frequenza e non si possono mettere nemmeno le dita brucio come come un forno ho smontato il finale di bassa frequenza e il transistor modulatore questo transistor è scoppiato vedete che buco che buco che ha qui questo è un ta7222 ap vediamo se ce l'ho dovrei averlo da qualche parte allora il finale di bassa frequenza l'ho cambiato e l'audio adesso ce l'abbiamo ho cambiato il transistor modulatore qui con tutti i transistor che ci stanno qua perché erano tutti bruciati c'era un condensatore scoppiato pure qui l'ho cambiato però non va in trasmissione molto probabilmente o pre finale o finale o entrambi adesso devo controllare perché qui mi trovo la portante quando va in trasmissione solo che non va avanti ecco adesso li controllo vediamo un po se sono bruciato allora sono danneggiati sia il pre finale che il finale questo tra base collettore e in corto non segna niente il finale tra base collettore non segna niente emettitore e emettore non segna niente quindi adesso provvedo a cambiarle metto naturalmente quelli miei simili al 2sc 21 66 e simili al 2sc 19 69 i transistor li ho cambiati ma la radio non va non va in trasmissione c'è qualche altra cosa che mi sfugge devo vedere un po di che si tratta cioè sulla base del del pre finale mi trovo il segnale guardandolo con l'analizzatore di spettro è anche forte all'uscita non c'è niente è strano perché ho quasi cambiato tutto vediamo un po se riesco a individuare il difetto è un giorno che ci lavoro vicino a questa radio eccola la colpevole una resistenza da due uomo era qui tra la base del pre finale e il il trimmer che si regola il bias è interrotta proprio adesso l'ho sostituita e quindi mi sembra che che adesso va però c'è sempre da fare la regolazione per vedere eccolo qua quindi la riparazione è riuscita adesso dobbiamo pensare solo a fare l'allineamento e fare la regolazione per aumentare un po la potenza ecco questi sono i componenti che ho cambiato alcuni condensatori ceramici non ci sono però perché sono erano scoppiati proprio carbonizzati messe tra la carcasse lo chassi e la scheda e la scala madre probabilmente alla fine se non succede qualcosa non c'è sfizio non c'è sfizio ma il filo del microfono spezzato speriamo che sia l'ultimo perché la radio l'ho aggiustato fatto l'allineamento e tutto vado a modulare a volte esce a volte no adesso sistemano il filo e queste cose si presentano sempre all'ultimo quando già pensi di aver finito allora siamo in a m o la o la 15 16 watt in modulazione andiamo in banda adesso o la o la più o meno siamo lì andiamo sull'altra o la o la e siamo lì quindi vi ringrazio per aver visto i video di questi due apparati alla fine ce l'abbiamo fatta grazie ancora buona giornata grazie a tutti